Ad aprile due gruppi di persone si sono fronteggiati in pieno centro a Venafro nei pressi di un bar con spranghe e lanci di oggetti. Da una parte giovani di Venafro, alcuni dei quali appartenenti alla tifoseria organizzata, già gravati da precedenti specifici. Dall'altra parte una comitiva di magrebbini residenti a Venafro. Pare che la rissa sia nata all'interno del locale, per futili motivi, tra due ragazzi appartenenti alle opposte fazioni. Dopo i Cafferugli, i protagonisti si sono dileguati lungo le strade limitrofe nella convinzione di farla franca. Ed invece sia le telecamere della zona sia alcuni passanti, con l'utilizzo dello smartphone, hanno ripreso la scena, aiutando le forze dell'ordine a ricostruire quanto accaduto. Ora la divisione anticrimine della questura di Sernia ha notificato 16 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto daspo urbano, nei confronti di altrettanti i soggetti che si sono resi responsabili della violenta rissa. Il questore di Sernia, che aveva già disposto in precedenza la sospensione della licenza per la durata di dieci giorni del bar dove è scaturita la rissa, ha emesso i provvedimenti nei confronti dei protagonisti al fine di prevenire ulteriori disordini e per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. I provvedimenti impediranno agli interessati l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze del locale pubblico teatro dei fatti, nonché degli altri esercizi pubblici presenti nelle zone circostanti per la durata di un anno. Se dovessero violare il provvedimento rischiano la reclusione da 1 a 3 anni ed una multa da 10 a 24 mila euro.